Malnutriti, ammassati in gabbie sporche o incatenati senza possibilità di movimento. 12 cani sono stati sequestrati e un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali dai poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e dal commissariato di Niscemi. Il controllo è stato effettuato nell'ambito di un'attività di contrasto alla prevenzione e repressione delle corse clandestine di cavalli e combattimento tra cani ed è stato condotto insieme ai veterinari dell'ASP di Caltanissetta. Le verifiche hanno permesso di individuare stalle abusive per allevamento di equini e riscontrare le gravissime condizioni igienico-sanitarie con cui venivano custoditi gli animali. Due meticci di grosse dimensioni e uno di piccola taglia tenuti a catena mentre altri nove cani probabilmente allevati per la caccia chiusi in gabbie all'interno di un box abusivo. I nove cani da caccia erano malnutriti in ipotermia e costretti a vivere in gabbie strettissime tra le loro feci e in un locale in quasi totale assenza di luce. In un primo momento l'indagato aveva negato di avere la disponibilità di quei locali smentito però dai primi accertamenti effettuati dagli agenti che invece hanno trovato un mazzo di chiavi nel suo veicolo che apriva una porta in ferro, unico accesso al manufatto. È stato necessario arieggiare i locali prima di intervenire in quanto l'odore e nauseabondo non permetteva di operare in condizioni di sicurezza per la salute dei poliziotti e dei medici. Gli agenti e veterinari non hanno potuto far altro che constatare le gravi condizioni di maltrattamento in danno dei cani che liberati si presentavano in ipotermia e malnutriti. Sfamati e trasferiti presso il commissariato di Niscemi da una ditta specializzata al recupero di animali sono stati successivamente sequestrati ed affidati alle cure di un centro specializzato convenzionato con il Comune.